Basterebbe già a Barcellona il suo comprensorio, oltre 55.000 abitanti, a far fermare i treni regionali veloci. Invece, pur fermando gli intercity, treni a lunga percorrenza, paradosso dei paradossi, alcuni treni regionali da Milazzo oltrepassano Barcellona per arrivare a patti. Ecco perché il sindaco della città del Longano, Maria Teresa Collica, ha inviato una lettera a Trenitalia ed organizzato l'incontro di venerdì scorso. E mentre a dicembre cambierà l'orario e pare che non verrà cancellata la tratta binario unico verso le stazioni di Novara-Montalbano-Furnari, Falcone e Oliveri, si spera che a Barcellona fermino nuovamente tutti i treni. Queste decisioni di intervento dipendono nettamente dalla Regione. La Regione però il contratto di servizio non l'ha firmato? Non ha importanza, comunque le responsabilità risalgono all'organo politico, che è la Regione. La responsabilità di decisione ovviamente. La città di Barcellona ha un'utenza molto vasta e la seconda città in provincia di Messina basterebbe già questo? Ma non è una questione di, come ripeto, ci sono delle problematiche legate, come dicevo prima, al numero di persone che usufruirebbero di questo servizio. Su questo non ci sono dubbi. Ma è una scelta che è stata fatta anni e anni fa. Ritornare indietro su una cosa di questo genere ha un costo che comunque io, come posso dire, lo subisco perché io sono un commerciale, quindi io faccio treni. Poi c'è l'altra società che gestisce infrastrutture. Quindi è ovvio che comprenderà perfettamente che io faccio i treni laddove si possono fare. In realtà Barcellona dovrebbe essere principalmente una fermata del trasporto regionale fatta da pendolari per un utilizzo quotidiano perché ormai anche da quando si è fatto il doppio binario da Messina a Patti in teoria si dovrebbe creare anche un servizio metropolitano in questo senso. Fermano sì i treni a lunga percorrenza e non fermano alcuni treni del trasporto regionale. Questo è assolutamente un controsenso perché l'utenza tipica di Barcellona invece è pendolare e quindi ha più necessità, per carità, benissimo, ben vengono le fermate dei treni espressi e intercity, però c'è più necessità forse dei treni regionali.